Un incendio nel primo pomeriggio di ieri a Spoltore che ha creato non poche preoccupazioni a residenti e cittadini. L'hotel Città Bianca, situato in Viale Europa, si è visto bruciare tetto e sottotetto. Alla vista del fumo e del principio di incendio, tutti gli ospiti sono usciti fuori dalla struttura in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, che appena giunti sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Spoltore e gli agenti della polizia locale. Durante l'intervento tre vigili hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e ad un primo esame i danni sarebbero ingenti, nel frattempo lo stabile è stato dichiarato temporaneamente non agibile.